E' stata riaperta intorno alla mezzanotte di oggi la strada statale 318 Perugia-Ancona nel tratto compreso tra Valfabrica e Casa Castalda dopo l'incidente verificato se alle 17 circa di ieri un camion che procedeva in direzione Ancona è finito sulla carreggiata opposta ed è andato a sbandare contro le mura della galleria Picchiarella. Fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri veicoli lievemente ferito il conducente del mezzo. Il camion è stato recuperato solo nella tarda serata grazie all'intervento di un mezzo speciale dei vigili del fuoco proveniente da Arezzo. Sul posto la polizia stradale e il personale di Anas impegnato nel gestire la viabilità. Lunghe code e traffico bloccato per diverse ore lungo l'arteria con dei camion che sono rimasti bloccati e impossibilitati a fare manovra e che sono ripartiti solo in tarda nottata. Intanto in tema di viabilità riapre dopo quattro anni il viadotto Montoro sulla E45 nella tratta Terniorte. Oltre 5 milioni di investimenti paragonabile a quello della contesta nell'Eugubino ma di ben maggiore problematicità costituita dal fatto che la pila centrale del viadotto Montoro si era spostata per ragioni attribuite ai movimenti tellurici al punto tale da essere per pochi centimetri agganciata alle travi dell'impalcato. Il viadotto è stato chiuso per un breve periodo anche completamente e poi riaperto a fase alterne a solo due corsie. I lavori hanno riportato la pila perfettamente in verticale sottofondata e consolidata. Importante ritorno alla normalità sul raccordo autostradale Terniorte perché costituisce il collegamento del Lazio e del Sud Italia con l'Umbria verso l'Emilia Romagna e verso il nord alternativo alla Uno.